Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelo di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 6 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono fragole, amido di mais, zucchero, succo di limone e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le fragole e il succo di limone. e le facciamo frullare per 3 minuti a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'amido di mais. L'acqua. e cuocere per 8 minuti. 80 gradi. Velocità 4. Versare il composto in uno stampo in silicone o per budini. Lasciamo intiepidire e riporre in frigo per almeno 6 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il gelo dal frigo. Sformiamolo e servire. Gelo di fragole. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.